L'ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, del PD, si candiderà alla presidenza in occasione delle regionali del 3 e 4 ottobre prossimo. Lo annuncia in una nota il coordinamento Comitato Oliverio-Presidente. I comitati, al termine di una riunione tenutasi a Reggio Calabria, e scritto nella nota, hanno chiesto a Mario Oliverio di formalizzare la propria disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione nella prossima competizione regionale. A tale richiesta, Mario Oliverio ha sciolto positivamente la riserva, annunciando che nelle prossime ore terrà una conferenza stampa. Anche in Calabria e in politica, e scritto nella nota del coordinamento Comitato Oliverio-Presidente, non tutto ha un prezzo. La nostra è innanzitutto una battaglia di dignità e di libertà al servizio degli interessi puliti del popolo calabrese. Per quanto ci riguarda su di noi e sulle nostre scelte di stare in campo in maniera autonoma, nella prossima competizione elettorale regionale decideranno esclusivamente gli elettori. A loro e a nessun altro affidiamo il nostro destino politico e la scelta di porci come forza radicalmente alternativa tutti gli schieramenti in campo. Su questa base i partecipanti alla riunione che si è tenuta a Reggio Calabria hanno chiesto a Mario Oliverio di formalizzare la propria disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione nella prossima competizione regionale.